Quasi 40 ore tra nubi fragi e allagamenti che ha colpito, come potete vedere chiaramente dalle immagini, la provincia di Taranto, soprattutto a Ginosa. Un fiume d'acqua ieri ha invaso il centro cittadino e la campagna, come avviene ormai da un po' di anni. Forse ancora non abbiamo capito che il nostro territorio è ad alto rischio idrogeologico e non servono i convegni se non si prende in mano la situazione e non si va sul concreto. Se c'è mancanza di pulizia dei canali e di messa a regime di canali e di reti di scolo, evidentemente non abbiamo ancora tratto alcuna lezione dall'alluvione del 2013. Forse è arrivato il momento di mettere mani concretamente ai problemi del nostro territorio e che si faccia una manutenzione ordinaria e straordinaria, in maniera seria e concreta, senza magari aspettare l'ennesimo disastro. Forse è arrivato il momento di mettere mani concretamente ai problemi del nostro territorio e che si faccia una manutenzione ordinaria e straordinaria, in maniera seria e concreta, senza magari aspettare l'amore.